Tre foto sbiadite su una croce in un'area e in pervia a Collia Volturno tre aviatori del quarto stormo caccia dell'aeronautica militare morti in un incidente aereo il 9 aprile del 1949, un fatto di cronaca dimenticato che è diventato storia grazie alla ricerca certosina di due finanziari molisani Antonio Lanza e Giuseppe Dedona. In un libro con foto inedite e documenti hanno raccontato questa storia, ne hanno definito i contorni, analizzato i fatti, cosa accadde, come e perché i tre sfortunati piloti, il tenente colonnello Ottorino Farnioli, il tenente Giulio Mainella e il sergente maggiore Mario Gaspari quella mattina non raggiunsero mai treviso come si è scoperto gli altri due caccia Mustang. Questa ricerca è nata a cavallo tra il 2014 e il 2015, in quel periodo io e Antonio eravamo all'archivio di Stato di Campobasso e stavamo facendo una ricerca storica sulle caserme della Guardia di Finanza del Molise, ci capitarono tra le mani dei carteggi che riguardavano delle comunicazioni tra i carabinieri e sia la prefettura che la questura di Campobasso in cui proprio si parlava di una tragedia aerea avvenuta la mattina del 9 aprile del 49. Una ricerca puntuale giornalistica. La ricerca successivamente è proseguita grazie alla documentazione che è stata via via acquisita presso l'ufficio storico dell'aeronautica militare italiana, presso archivi di Stato nazionali ed anche esteri perché uno dei piloti era nato a Pola, città che ora fa parte della Repubblica di Croazia. Ulteriormente sono state interessate biblioteche ed anche delle emeroteche nazionali per poter acquisire documenti a supporto della ricerca nel suo complesso. Tante anche le testimonianze raccolte pure di gente che allora c'era e ricordava. In particolare molto toccante è stata la testimonianza di due anziani coniugi, testimoni oculari del grave incidente e all'epoca dei fatti erano giovani fidanzati. Hanno raccolto la salma di un pilota che poi è stata ospitata per una notte in una cascina di loro proprietà. 9 aprile 1949 il disastro aereo di Colli a Volturne è un'interessante ricerca. L'introduzione al volume è del presidente dell'ordine dei giornalisti Vincenzo Cimino e del sindaco di Colli Emilio Incollingo e c'è un approfondimento giuridico del docente Unimol Giuseppe Reale. Probabilmente riusciremo, grazie al Comune, a ripristinare questa croce commemorativa con le foto e i nomi dei piloti.